Buongiorno, buongiorno, benvenuti a Rassegnati, il podcast di Feff Academy. Rassegnati siamo noi tutti, a cui tocca tutti i giorni sorbirci la propaganda e l'ipocrisia dell'informazione spesso pilotata e incompetente dei nostri giornali mainstream. Io sono Matteo Bernabè, giornalista che per Feff Academy cura la sezione informativa. Questa è la rassegna stampa di venerdì 24 marzo 2023. Allora, buongiorno a tutti ancora. Inizia il weekend, siamo alle porte del weekend e questo non può che farci piacere. Allora, iniziamo sulla prima pagina del Corriere della Sera come al solito, che apre con il, diciamo così, pressoché inutile vertice europeo. Migranti, l'Europa dice due punti avanti sul piano. Meloni soddisfatta, il tema ora è centrale. Dopo il vertice, il bilaterale con Macron ed è disgelo. Michel intanto dice nuova verifica a giugno sulla questione appunto migranti, che Michel sarebbe il presidente del Consiglio europeo. Stallo sulle auto green, intanto Zelensky chiede un summit per la pace, basta ritardi. E Eli Schlein debutta a Bruxelles. Dopo vedremo anche la lettura che ne dà il fatto quotidiano di questa vicenda, che non è male, devo dire che non è assolutamente male. Allora, leggiamo che cosa dice l'incipit, cioè il riassuntino in prima pagina, che appunto raccoglie un po' tutte queste notizie. Emergenza migranti, l'Europa in campo, Giorgia Meloni rivendica che il tema sia tornato centrale per merito dell'Italia. Il vertice di Bruxelles è stato anche l'occasione per un bilaterale tra la Premier italiana e il presidente francese Emmanuel Macron dopo le frizioni delle ultime settimane. Un incontro che ha riavvicinato le posizioni di Roma e Parigi. Debuto europeo per la neosegretaria del PD Eli Schlein. In stallo sull'auto green, nuovo appello del presidente ucraino Vladimir Zelensky a Bruxelles. Si convochi un summit per la pace. Ha decretato Zelensky. L'altra questione, sempre legata alla questione guerra, c'è questo articolo di Lorenzo Cremonesi, sempre messo in evidenza nella prima pagina, proprio esattamente sotto il titolo principale, che recita perché l'armata russa non riesce ad avanzare. L'attacco russo per conquistare Bakhmut starebbe perdendo di forza. Starebbe perdendo di forza, occhio. Quindi ricordiamoci questa cosa e vediamo che cosa succederà nei prossimi giorni. Poi ricordiamoci di questo articolo firmato da Lorenzo Cremonesi. Ancora la propaganda che batte. Allora, tanto per quanto riguarda invece l'altra cosa piuttosto importante, che insomma le proteste in Francia non si fermano, i francesi sono tosti, giustamente. Milioni in piazza contro la riforma delle pensioni, ancora scontri e tensioni. La Francia in piazza contro Macron e la riforma delle pensioni, scontri e tensioni. Tra l'altro dovrebbe essere stato indetto un nuovo sciopero per il 28 di marzo. L'altra cosa che ho selezionato in prima pagina sul Corriere della Sera è la questione che ha fatto tanto dibattere negli ultimi tempi relativa alle farine ed insetti, tanti allarmismi secondo me ingiustificati e ora poi spiego perché. Però insomma stamani si dice, si parla di farine ed insetti, sì con etichette e scaffali riservati. Le regole per il commercio in alcuni decreti, mi sembra quattro decreti ad hoc, sia le farine ed insetti nei supermercati ma con uno spazio a loro dedicato in modo che non possano essere confuse con le altre. Inoltre avranno etichette che dovranno esplicitare con chiarezza la composizione e gli eventuali accorgimenti per la salute. Le regole in quattro decreti ad hoc. Allora la questione sulle farine sintetiche, secondo me si è fatto tanto rumore per, non dico nulla, ma poco. Cioè nel senso che qui sostanzialmente siamo di fronte a dei prodotti che sono costosissimi, cioè che non c'è paragone con chiaramente la farina che troviamo, la farina di grano che troviamo al supermercato, altre farine chiaramente di quello che insomma siamo abituati a mangiare, quindi alimenti vegetali sostanzialmente, quindi cereali. Ecco, perché mi pare che, ora non ricordo diciamo precisamente, però siamo nell'ordine dei 60-70 euro al chilo per la farina per esempio di grilli, quindi c'è nel senso di cosa stiamo parlando. Cioè è chiaro che ci sono delle spinte per portare nel mercato questa roba, però non credo, non vedo gli italiani molto inclini da una parte a diciamo a utilizzare quelle farine anche se avessero un costo basso. A maggior ragione queste farine hanno un costo molto alto, altissimo oserei dire, quindi diciamo che secondo me sarà un flop fortunatamente tutta questa roba. Passiamo sulla prima di Repubblica, passiamo sulla prima di Repubblica, ho selezionato solo diciamo a titolo informativo quello che è il titolo di apertura, ecco, legato alla questione dei migranti e il vertice europeo, Meloni a mani vuote è il titolo principale, la Premier lancia l'allarme al Consiglio e rischiamo 900 mila arrivi. Questo è messo in relazione alla situazione politica della Tunisia. e poi dice nel sottotitolo la Repubblica, ma nel comunicato finale solo pochi i cenni all'immigrazione, tutto rinviato al vertice di giugno. Dopo il gelo bilaterale nella notte con il presidente francese Macron, è fitto, tratta sul PNRR. Schlein poi chiaramente va messa in evidenza, la Schlein che non frega nulla a nessuno di questo vertice del PSE. Schlein è leader PSE, spero di tornare da voi come capo del governo. Ecco, lo speriamo anche noi, così finalmente chi ancora quei gonzi che credono che la Schlein sia di sinistra, avranno, diciamo, si toglieranno finalmente il prosciutto dagli occhi e dalle orecchie e vedranno che insomma quello che stiamo dicendo da praticamente quando la Schlein è stata eletta segretaria del PD. Allora, andiamo avanti sulla stampa, ancora qui appunto come titolo principale riprende quella cosa che avevo appena detto sulla questione della Tunisia, con il virgolettato attribuito appunto a Giorgia Meloni, Meloni due punti, se crolla la Tunisia rischiamo 900 mila profughi. Gelo dei paesi del nord, no a patti con i dittatori, e la Premier vede Macron, il Consiglio europeo von der Leyen chiede di incrementare gli ingressi legali, incrementare gli ingressi legali ovviamente perché come sappiamo bene è necessaria la deflazione salariale e questo lo colleghiamo anche a, diciamo, alla scoperta della stampa, ne abbiamo già parlato ieri ma oggi ci torna sopra sulla questione dei salari da fame, quelle paghe da fame è il titolo e l'assurda ostilità per il salario minimo. Un articolo firmato da Marco Revelli che dice il caso dei lavoratori e delle lavoratrici delle RSA piemontesi pagati 5 euro lordi l'ora è uno scandalo sociale di indubbia gravità, per numerose ragioni, intanto perché umilia le persone che prestano il proprio lavoro di cura e quindi particolarmente impegnativo carico di responsabilità e di rischi, misurando la loro fatica sui gradi più bassi del riconoscimento sociale, in secondo luogo perché offende gli stessi assistiti in quelle strutture come ha scritto giustamente Elsa Fornero su questo giornale. Cioè, colei che ha naturalmente incentivato i salari da fame, diceva si indignava ieri per queste robe qua. Cioè, ragazzi, siamo veramente alla follia. E' ovvio che quello che scrive Revelli, sono d'accordo con quello che scrive Revelli, ma è il pulpito che non ha credibilità quando dice certe cose. A parte che, vabbè, la Fornero poi ieri diceva anche, tesseva le lodi del salario minimo, eccetera, eccetera, quando lei comunque è stata al governo, è stata ministro, e lo poteva fare anche lei il salario minimo e non l'ha fatto, intanto. E poi veniamo a parlare di salario minimo quando c'è una disoccupazione al 7, 8, 9% e abbiamo un tasso di inattivi che è il più alto d'Europa. Cioè, il salario minimo si chiama aumento del potere contrattuale dei lavoratori e quella cosa lì si fa abbattendo la disoccupazione involontaria. Su questo non c'è dubbio. E i modi ci sono. Se c'è la volontà politica di azzerare la disoccupazione, il modo c'è e si trova. Ma ci deve essere la volontà politica. Se non lo fanno, e perché? Non perché non ci sono i soldi per farlo. E perché non c'è la volontà politica di farlo. Chiaro? Questo è. Invece, per quanto riguarda sempre la questione legata, diciamo così, allo stato sociale, ci abbiamo anche un altro articolo della sanità, sulla sanità e sulla cosiddetta cura schillaci, che è il ministro della salute, incentivi ai medici e tetto ai gettonisti. I gettonisti sarebbero tipo i medici che vengono affittati in qualche modo, perché poi di questo si tratta, nel senso che vanno a chiamata e costano molto di più naturalmente alla sanità pubblica. Contributi previdenziali più pesanti, maggiori punteggi ai fini della carriera, e defiscalizzazione dell'indennità di specificità per i medici che lavorano in prima linea. Il ministro della salute, Orazio Schillaci, anticipa alla stampa il decreto omnibus sanitario. Vedremo di cosa si tratta, però anche qui non vedo nessun miglioramento all'orizzonte. Sul sole 24 ore ci sono un po' di cosine che ho messo in evidenza. L'apertura, stamani il sole la dedica all'assistenza agli anziani. Fatta la delega, ora occorre trovare oltre 7 miliardi. Il DDL anziani, approvato dal Parlamento, dota l'Italia, ultimo tra i grandi paesi UE, di un quadro normativo per l'assistenza di 3 milioni e 800 mila anziani fragili. Ma è solo un punto di partenza. I decreti attuativi dovranno individuare entro gennaio 2024 le risorse per finanziare l'estensione dei servizi, dalle cure palliative all'assistenza domiciliare. Secondo i tecnici, ai 6 miliardi per le misure già esistenti, bisognerà aggiungere un'extra spesa fino a 7 miliardi di euro. Infatti poi, dice, evidenza il sole 24 ore, i fondi esistenti non bastano coprire i costi dell'estensione dei servizi. Ora qui non vorrei che si andasse nella direzione, visto che queste sono spese necessarie e utili, sono spese necessarie e utili, direi anche, parlerei quasi anche di investimenti, perché poi, insomma, sono tutti i servizi questi che sono molto, molto, molto importanti. Non vorrei che si arrivasse alla questione per cui il governo dica, o diciamo la maggioranza, insomma, dica, noi l'abbiamo approvato, la nostra buona volontà ce l'abbiamo messa tutta, però purtroppo non può essere attuato fino in fondo questa bella roba che abbiamo approvato perché non ci sono i soldi. E allora lì arriva, siamo al punto, i soldi non ci sono perché non vuoi che ci siano i soldi, perché altrimenti, come abbiamo già visto in tante occasioni, è sempre una questione politica, anche in questo caso, cioè i soldi non devono essere una scusa per non fare le cose, ma devono essere uno strumento per poterle fare e questo strumento deve essere sempre a disposizione, soprattutto di un governo e di uno Stato che, ovviamente, in quanto Stato, dovrebbe tutelare il benessere dei propri cittadini. Questo dovrebbe essere... L'altra notizia che ho evidenziato riguarda appunto la questione banche, banche USA, Yellen riapre sui sostegni, quindi c'è stata un'ulteriore uscita del segretario del tesoro americano, Janet Yellen, che sostanzialmente ha detto che sostanzialmente le garanzie pubbliche, ha confermato le garanzie pubbliche sui depositi e poi, sempre nella solita notizia, nel solito titolo, c'è scritto Europa giallo bond, perché questo sostanzialmente è successo che c'è stata qualche tensione anche in Europa sui bond, cioè sulle obbligazioni AT1, cioè quelle che Credit Suisse, praticamente nel caso Credit Suisse, sono state azzerate, 16 miliardi azzerati, quindi gli obbligazionisti che avevano acquistato queste azioni, avevano quindi prestato questi 16 miliardi alla banca svizzera, praticamente si sono trovati in brache di tela, di fatto, perché non saranno rimborsati queste obbligazioni subordinate. E un paio di banche, dice qua, ha prorogato la scadenza, e si tratta di due banche tedesche. Qui riprendo una notizia che è uscita ieri sul sito di Milano Finanza, crisi dei bond AT1 colpite due banche tedesche che finanziano immobili e un fondo pensione. Due banche tedesche che finanziano progetti immobiliari e infrastrutture hanno annunciato di non esercitare il richiamo sui propri bond AT1, un fatto raro dopo la cancellazione di 16 miliardi di debito subordinato di Credit Suisse da parte del governo svizzero. Sicuramente è interessante magari approfondire un po' di più per capire cosa sia successo perché a regola la Germania è in Europa, cioè nell'Unione Europea, e nell'Unione Europea queste cose sono regolate in maniera abbastanza rigida nel senso che, come abbiamo già detto nei giorni scorsi, la questione legata al fallimento di una banca è che i primi a pagare siano gli azionisti, poi gli obbligazionisti subordinati, quindi anche gli acquirenti di questi bond AT1, le obbligazioni, diciamo, diciamo classiche in qualche modo, e poi le obbligazioni tradizionali, diciamo così, e poi ci sono chiaramente i depositi, i correntisti in qualche modo. Invece in Svizzera questa cosa con una decisione politica è stata ribaltata praticamente, diciamo a pagare di più sono stati gli obbligazionisti che avevano acquistato queste AT1 e poi subito e dopo gli azionisti che comunque qualcosa hanno salvato, qualcosa hanno salvato, e quindi è interessante un po' capire che cosa è successo. Sempre restando in materia di banche Svizzera, eccetera, c'è stato ieri la decisione da parte delle banche centrali della Svizzera ma anche del Regno Unito di seguire comunque quella linea di aumento dei tassi di interesse. Svizzera e Gran Bretagna alzano i tassi. L'ultima cosa che ho messo in evidenza sulla prima del sole riguarda infissi e caldaie in salvo i bonus per lavori avviati. Meno male, meno male. Comunque, dovrebbero arrivare qualche novità in merito insomma alla questione bonus edilizi, cessione dei crediti, eccetera, perché insomma si sta discutendo abbastanza in maniera accesa nelle stanze romane del Parlamento naturalmente e una volta che ci sarà il decreto definitivo quindi la legge approvata su questa roba qui siamo già diciamo in ballo con il nostro Davide Lesetti per poter andare a sviscerare un po' quello che sarà deciso e lo andremo chiaramente a commentare. Passiamo sul fatto quotidiano Milano Finanza lo salto perché tanto ne abbiamo già parlato ora con la questione dei bond di Credit Suisse avevo selezionato sostanzialmente quello sulla prima del fatto quotidiano ecco quello che vi dicevo all'inizio è questa visita della Schlein a Bruxelles e Schlein cerca la sinistra ma trova il compagno nato perché Stoltenberg che appunto fa parte del PSE il partito socialista europeo di cui insomma il PD è una delle anime sostanzialmente Stoltenberg si presenta sorpresa al vertice dei socialisti europei con Ellie e in compagni il PSE guerra fondaio scrive il fatto quotidiano la leader PD pensava di parlare di welfare ma il numero uno del patto del patto atlantico cioè della Nato Stoltenberg ordina ora produrre più armi guerra lunga e Zelesky chiede altre forniture vabbè questa non è una notizia che Zelesky chieda altre forniture ma arriviamo alla questione che volevo mettere anche un po' più in evidenza che anche Stamani mi trova d'accordo con Marco Travaglio nel suo editoriale Stamani intitolato Neuroni impoveriti ed è legato comunque alla questione guerra fornitura di armi e chiaramente la questione anche uranio impoverito perché purtroppo questa roba qui è tornata sta tornando a circolare allora scrive Travaglio secondo il centro osservatorio militare 7600 militari italiani in missione dalla Bosnia alla Somalia all'Iraq si sono ammalati di cancro per l'esposizione all'uranio impoverito rilasciato da proiettili nato e 400 sono morti di leucemia o altri tumori l'esplosione sprigiona nell'area polveri sottilissime che si depositano sul terreno e vengono inalate da uomini e animali entrano nell'organismo per via respiratoria o tramite gli alimenti e viaggiano nel sangue da un organo all'altro un veleno invisibile che uccide anche a distanza di decenni tutto accertato da indagini epidemiologiche giudiziari e parlamentari in vari paesi infatti quando si è saputo che le truppe russe in Ucraina potenziano i proiettili con uranio impoverito mettendo a ulteriore rischio i propri soldati quelli ucraini e i civili la condanna è stata unanime poi tre giorni fa il governo britannico annuncia l'invio di proiettili all'uranio impoverito a Kiev e da quell'istante l'uranio impoverito si tramuta in Chanel numero 5 con un fans club di tutto rispetto Antonio Caprarica ex reginologo in astinenza da regine spiega sulla 7 che i simpatici proiettili radioattivi purché made in London sono coerentemente usati su tutti i campi di battaglia purtroppo con sono correntemente usati su tutti i campi di battaglia purtroppo con esiti assai preoccupanti per la salute dei soldati che poveracci come dire hanno anche altre preoccupazioni non solo le malattie da uranio impoverito ma quel che gli succede sui campi di battaglia quindi nessun allarme escalation se non muori ammazzato come dire vuoi mettere la soddisfazione di tornare a casa e beccarti correntemente una leucemia un cancro a piacere targato UK la Nato si sa è come il Dash lava più bianco su Radio Rai il noto esperto Federico Fubini dispensa altre perle di saggezza il fatto relativamente al fatto quotidiano il fatto titola uranio impoverito Ucraina nuovo Iraq ma ho cercato di approfondire non mi sembra che la scienza sia univoca sulla pericolosità dell'uranio impoverito anzi i pediatri lo consigliano e poi chiude le virgolette chiaramente sul virgolettato attribuito a Fubini e poi aggiunge Travaglio anzi i pediatri l'uranio impoverito lo consigliano per l'aerosol dei bambini vabbè e la verità riprende questa cosa praticamente Belpietro ha scritto un editoriale molto simile nel senso che leggiamo solo il titolo sulla prima della verità non è detto faccia male virgolettato e poi trattano l'uranio da dolcetto pur di tifare guerra pur di tifare guerra trattano l'uranio anche come appunto scriveva Travaglio come Chanel numero 5 come Chanel numero 5 l'altra la notizia invece con cui apre diciamo il fatto la verità è le carte che smentiscono le accuse sulla strage di Cutro ecco le carte che smentiscono appunto le accuse sulla strage l'informativa della finanza inviata in procura sapevano che c'erano migranti ma non è vero il brogliaccio incriminato riassumeva male le informazioni di Frontex la guardia di finanza sta cercando stava cercando il barcone e l'altro virgolettato che viene insomma definito falso dalla verità falso era in mare appunto questo barcone per un'operazione lanciata il giorno prima vabbè l'altra cosa la fotonotizia invece la verità sta sulla questione del famoso utero in affitto e intervista una coppia omosessuale appunto che sono Tommaso Cerno e Stefano Balloc che sono due stanno Tommaso Cerno è il direttore dell'identità tra l'altro Tommaso Cerno è una persona sicuramente ragionevole da seguire io lo seguo su Twitter quindi vi invito a seguirlo perché ha degli spunti molto interessanti nonostante fosse stato un parlamentare del PD nella scorsa legislatura però diciamo che ha sempre stato molto indipendente nel suo pensiero quindi queste cose vanno riconosciute e sono abbastanza d'accordo con quello che dicono i due insomma questa coppia per noi gay l'utero è un affitto è un orrore il PD molli questa follia il PD molli questa follia dicono Tommaso Cerno e Stefano Ballok l'altra notizia che ho messo in evidenza è sempre sulla questione di guerra in Ucraina ok dall'Unione Europea compreremo pure i missili per Kiev per ora l'unica certezza al Consiglio Europeo è il prolungamento del sostegno all'Ucraina i paesi forniranno urgentemente armi pure a lunga gittata attesa per le decisioni sull'immigrazione appunto infatti è quello che si diceva un po' insomma un vertice che fatto sembra soltanto per la questione delle armi che saranno inviate in Ucraina utilizzando ricordiamolo sempre quel fondo chiamato fondo per la pace fondo per la pace l'ultima notizia sulla prima del fatto quotidiano riguarda le multe ai Novax tardiva presa dato del nostro fisco annullate le multe ai Novax è il virgolettato adesso è la volta dei rimborsi stanno arrivando le lettere del Ministero della Salute con cui si precisa che i non vaccinati over 50 non hanno l'obbligo di pagare la multa anche se hanno ricevuto la cartella intanto però l'Agenzia delle Entrate non ci sanno dire se sono state avviate le procedure per rimborsare chi nel frattempo ha versato i 100 euro interrogati sulle tempistiche replicano che differenza fa quindi chi non ha pagato ha fatto bene bene mi sembra che non ci sia altro da aggiungere per stamani questa era la rassegna di venerdì 24 marzo 2023 da Matteo Bernabè una buona giornata e un buon fine settimana a tutti con una postilla la prossima settimana non ci saremo ci saremo solo martedì e venerdì per chiudere la settimana mentre lunedì mercoledì e giovedì non ci sarà la rassegna ci vediamo però martedì e lo dico già su Ottolina TV con l'amico giornalista Giuliano Marrucci con cui faremo un commento delle notizie sui giornali quindi ci vediamo martedì buona giornata buon fine settimana a tutti